Chi è che me la prende qua davanti? Sentite da lì e lascia dopo il fondo nell'angelo è una storia che non si usa quella lama questa è abbastanza stabile non è un plasticone però è abbastanza stabile e cerca di non guardare mai la punta della prima guarda sempre dritto, ok? che senti la stabilità? è meglio tenere la mano, sì